Come è nata? Ho ricevuto una chiamata, come sapete ero svincolato dal mio agente e mi ha accennato che c'è la possibilità della Sampdoria. Ci sono dei giocatori che capiscono il valore delle piazze e non ci ho messo tanto per accettare. È una sfida per me, per questo momento è una sfida anche per la Sampdoria stessa di rimanere in A, quindi non potevo non accettare. A livello calcistico la squadra c'è, a livello fisico la squadra c'è, vanno 2000. È lunghissimo, ci sono davanti 15 partite e tantissimi punti in palio, quindi io non vedo perché in poco tempo sarà una classifica diversa. La vedo bene la squadra, vedo fiducia, vedo un gruppo, quindi non posso che non sperare bene. Uno che accetta di venire qua in una sfida del genere può solo permettere di lavorare duro, anche perché so già che la squadra sta lavorando solo. Mettermi a disposizione, ok sono un difensore, posso aiutare dovunque ci sia bisogno e voglio farmi valere e essere un punto che aiuta la squadra. La Sampdoria tutti sanno che è una grande squadra, campioni, leggende hanno messo questa maglia ed è pesante. Tutti conoscono la storia, si fira un'area molto diversa per la classifica che è in questo momento. Sì che ho avuto anche compagni che hanno giocato qua, come D'Agosta, come Nenad Christic, che mi hanno parlato bene. E si sapeva sempre che la Sampdoria è una realtà importante. E poi ho avuto un compagno che con i suoi insegnamenti, anche da calciatore, anche nella vita, mi ha fatto capire un bel po' di questa piazza, Daniele Castaldedo, che è stato anche il capitano qua, cui stimo molto. Sì che so e sapevo già prima dove sto arrivando, indipendentemente dal momento. Sì che deve essere questa la strada, poi quella sosta ha servito molto bene alla Sampdoria perché ha dato l'opportunità, come vedo, di mettere tanti chilometri sulle gambe, tanta benzina, tanta forza e questo si vede. Poi questi risultati sicuro che arrivano. I tifosi si vede che sono molto vicini alla squadra, capiscono le difficoltà e non mollano un centimetro. È una tifoseria che ha sempre fatto piacere a tutti i giocatori, anche quando vieni da fuori per giocare qua. E quello che ho visto è che è conosciuto anche in Europa fuori, perché è tutto bello. Grazie a tutti.